Un signore che non ha bisogno di presentazioni, giornalista, scrittore, insomma. 24 marzo, una data molto importante nella storia di un popolo e ora Ettore ce ne parlerà molto più diffusamente. Ma innanzitutto io devo difendermi dall'ombra di un sospetto che inquina questa mia presenza a Rimini ed è il fatto che vedo nelle donne, non tanto negli uomini ma nelle donne che sono qui, una muta accusa che mi dice dov'è la tua Clotilde? Allora siccome molti di voi ricorderanno che due anni fa Clotilde da questo tavolo mi accusò di impietà, di delitti terribili eccetera, io so che molti di voi pensano che io l'abbia nel frattempo strangolata. Invece non è così, semplicemente Clotilde è diventata docente della sua associazione di psicoanalisi e ogni 15 giorni vengono da varie parti d'Italia dei candidati per affrontare una serie di lezioni fatte dai vari didatti. E quindi questa volta purtroppo il convegno è caduto nei due venerdì e sabato in cui lei era di turno. Quindi non l'ho uccisa, vi garantisco che sta bene, mi ha detto di salutarvi tanto, era ben sicura che tutti avrebbero domandato come sta Clotilde e quindi lei è stata contenta e io invece mi sono trovata un po' così. Bene, allora invece passando a cose più serie, voglio dirvi che nel programma provvisorio di questo convegno era previsto che un mio breve intervento seguisse questa sera un'azione scenica di Marco Cantarelli, il prete burattinaio. Mi dispiace che non sia stato possibile realizzare questo evento perché l'anno scorso, proprio come oggi, Marco e io abbiamo lavorato insieme a Roma a una commemorazione di Monsignor Romero e il suo intervento mi ha grandemente emozionato. Uno scrittore, un oratore, ammucchiano parole e cercano di trovare le migliori per esprimere i loro sentimenti, limano e correggono i testi, ma un vero artista, qual è Marco, non ha bisogno di tante frasi per raggiungere il cuore dell'emozione. E i suoi gesti muti sono ben più eloquenti dei nostri discorsi. Così l'anno scorso mi sono trovato con gli occhi pieni di lacrime per una scena creata dal nostro amico. Prova a descrivere questa scena. C'è un piccolo fantoccio vestito da prete, con gli occhiali, con uno di quei larghi, rotondi cappelli neri che nessun sacerdote fortunatamente porta più. E c'è una giovane donna, in carne ed ossa, che tiene fra le braccia quel fantoccio, cullandolo dolcemente come se fosse il suo bambino. Un flauto indio canta una ninna nanna. Il vecchio prete vestito all'antica è Monsignor Romero. Quella scena mi è sembrata contenere molti significati. E qui vorrei raccoglierne qualcuno. È la madre che ridona al figlio ferito a morte la pace del suo seno. E che il bambino sia un vecchio mentre la madre è giovane non ha importanza. Perché la madre che i morenti di qualunque età evocano è la madre giovane che gli ha dato latte e baci quando erano piccini. È il mondo delle donne che ebbe in Monsignor Romero un padre delicato e appassionato e nella castità di questo abbraccio gli mostra la sua riconoscenza. Ed è, o potrebbe essere, la chiesa che dona a un martire la tenerezza che la guarisce dal dolore atroce di un assassino e gli sussurra, sei il mio figlio più caro, il mio figlio amato perché sei stato fedele al mio amore. Ecco, quest'ultima immagine, quella di una madre chiesa che sa trasformare in tenerezza la sua proclamazione del Vangelo e la memoria dei Santi mi sembra la più adatta per parlare dell'arcivescovo di San Salvador. Perché proprio accanto a Romero un vescovo che seppe vivere, come pochissimi altri, una tenerezza infinita da 26 anni andiamo scoprendo che questa chiesa amorosa alla quale vorremmo con gioia appartenere non è ancora presente fra noi essendo il suo cammino inceppato dai suoi preziosi paramenti che si impigliano nei roveti del potere e nei roveti della paura Potere e paura strangono l'amore e la profezia è una storia vecchia quanto la storia dell'uomo La tenerezza che esige di rendere pronta giustizia a chi soffre perché il suo dolore è avvertito come il nostro dolore e quindi ci pare intollerabile gli uomini delle istituzioni la considerano un pericoloso e avventato accedimento all'irrazionale un disordine che turba l'ordine costituito cioè la loro tranquillità di potere Il nuovo Papa ha redatto un'enciclica sull'amore che a me è grandemente piaciuta ma il Vaticano non ne ha ancora preso la lezione E' certamente anche per questo che celebrando l'anniversario della morte di Monsignor Romero lo facciamo oggi con la crescente tristezza per una canonizzazione che non è ancora avvenuta ciò che sembra tanto più scandaloso quando si pensi che Papa Wojtyla ha proclamato durante il suo pontificato più santi di quanti ne fossero stati proclamati in duemila anni di storia ecclesiastica ma lo facciamo anche con l'allarmata mestizia che viene da un fatto non meno grave e questo fatto è il pericolo che fra qualche mese la canonizzazione dell'arcivescovo possa essere finalmente decretata per esempio in occasione del prossimo viaggio di Benedetto XVI in America Latina ma involucrata per così dire in un contenitore definitorio tale da sbiadire le ragioni fondamentali per le quali Romero è diventato per i poveri il loro santo e per noi il profeta della tenerezza rivoluzionaria proprio negli ambienti della postulazione della causa infatti c'è stato prima a Viterbo un convegno di studio dal titolo sin troppo eloquente Monsignor Romero dal mito alla storia e poi è stata pubblicata una biografia che forse per fare avanzare la causa canonica finisce per normalizzare la figura del martire non inserendola profondamente, vitalmente nella storia di un popolo, di un continente e anche come vedremo di un sistema planetario omicida e trattandone invece la morte come un evento criminale che ha colpito un vescovo zelante sì e scomodamente rigoroso ma dopo tutto non diverso da tanti altri è un'operazione come sono pronto a riconoscere tentata probabilmente per facilitare delle decisioni positive da parte del Vaticano rimuovendo l'opposizione di chi considera Romero un vescovo rosso o un vescovo come disse Voitiva esagerato nella sua azione episcopale dunque si potrebbe dire un'operazione tentata a fin di bene ma io ricordo una pagina terribile di Ignazio Sirone sui mali ecclesiali provocati nella storia a fin di bene cioè da un'ansia di adeguamento della realtà al cosiddetto buonsenso o al nostro desiderio di raggiungere a qualunque costo risultati che ci sembrano nobili a fin di bene ricordava lo scrittore abruzzese sono state create innumerevoli vittime e distorsioni storiche e il Vangelo è stato corrotto e estenuato Maria Lopez Vigil amica e appassionata biografa del martire leggete il libro che ha inventato qui mille pezzi per un ritratto in un recente convegno milanese ha detto molto giustamente a mio avviso che Romero non può essere ricordato cito virgolette analizzando accademicamente i suoi archivi o teologicamente le sue omelie piuttosto che rintracciarlo nella voce della sua gente e possiamo temere aggiunge Maria che querrà talvesse interpretare la vita la panabra e la morte di Monsignor Romero hasta convertirlo in un santo mas del potere istituzionale che si arriverà forse a interpretare la vita la parola la morte di Monsignor Romero sino a trasformarlo in un santo in più del potere istituzionale penso anch'io come Maria che è venuta a trovarmi a Roma mentre gli organizzatori dei convegni di Viterbo e di Milano si sono ben guardati dall'invitarmi ai loro lavori quasi che la mia non fosse e non rimanga posso dirlo con serena certezza la più accurata biografia di Monsignore penso anch'io che separare l'arcivescovo dalla storia dei poveri e del nostro tempo significa ridurre drasticamente la sua testimonianza evangelica amputarla crudelmente perché è certamente vero che le carte degli archivi parlano di un vescovo fedelissimo al Papa cattolicissimo devotissimo non soltanto a Gesù ma anche a Maria di Nazareth insomma del tutto omogeneo a tanta parte della meno allarmante gerarchia cattolica ma è anche vero che la tenerezza per i poveri spinse Romero in quella regione di confine in cui la Chiesa o accetta di evangelizzare il popolo di Dio ponendo il suo Tempio a cielo aperto sulle falde del Golgotha o tradisce la sua missione o è una Chiesa che raccoglie la rivoluzione del Magnificat o è una cattedra di buonismo senza la dimensione eroica dell'amore non si può comprendere il Monsignor Romero tantomeno descriverlo se non a partire dall'unione mistica ma anche concreta sanguinosa con il suo popolo il rapporto carnale che ha legato fra loro l'arcivescovo e i suoi figli affamati e assettati di giustizia quando ho scritto quella biografia dopo aver tanto lavorato sulle testimonianze e sui documenti della sua storia ho capito che al titolo del mio libro l'arcivescovo deve morire non poteva che seguire un sottotitolo Oscar Romero e il suo popolo una canonizzazione di Romero che non si situasse nella storia dei poveri in cerca di liberazione ne tradirebbe la preziosità del martirio vanificherebbe la certificazione della sua degnità della sua santità perché a noi tutti credo non importa poi tanto che l'immagine di questo piccolo vescovo indio sia appesa per una mattina alla loggia delle benedizioni noi vogliamo che sia posta nel tesoro di quella che Bonefer chiamava chiesa confessante io penso che il simbolo più bello della liturgia dei funerali di Giovanni Paolo II quasi esattamente un anno fa sia stato quel libro dei Vangeli posto sulla bara e sfogliato dal vento come se lo Spirito Santo volesse attirare la nostra attenzione e la nostra meditazione su una pagina ben precisa sulla bara di Romero che nella liturgia dei suoi funerali è stata al centro non di un convegno di signori della terra ma di un massacro di poveri il vento della storia è certamente cercato quella pagina del Vangelo di Matteo in cui Gesù indica la sua profonda identificazione con i piccoli della storia le vittime di un'umanità che continua ad essere sfigurata dalla presenza di Caino o forse più probabilmente il libro è stato aperto sulle pagine di Luca e di Matteo in cui si parla come raramente avviene nel Vangeli di una vera e propria esplosione di gioia del fondatore della nostra Chiesa Gesù esulta dicono gli Apostoli festosamente gridando ti rendo l'ode Padre Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai poveri Il cuore di Romero ancora più che la sua teologia avverte con chiarezza che dunque una delle fonti della rivelazione è il magistero dei poveri e che un cristiano tanto più un vescovo che non siano disposti a ricercarlo ascoltarlo e testimoniarlo mancano un appuntamento essenziale fissato dal padre feriscono l'ortodossia o forse già conoscono davvero la braccia mortale di un'eresia elitaria che guarda a una rivelazione affidata soltanto agli intellettuali e ai sacerdoti Romero non è uno di quei borghesi romantici che decidendo di schierarsi politicamente a sinistra fingono di non vedere in quali condizioni anche morali vivono le masse degli empobresidos in molti suoi documenti pastorali ne affronta con vigore le miserie condanna l'alcolismo il maschilismo la violenza nelle famiglie l'irresponsabilità di molti padri ma egli non dimentica mai che ogni violenza dei miseri non è soltanto originata dall'ambiguità che tutti ci portiamo dentro ma anche dal sistema di violenza classista che li schiaccia negando loro ogni dignità e Monsignore è poi attentissimo ai loro dolori ai tesori di Vangelo che molti di loro sanno vivere la fede semplice la solidarietà e persino il genio creativo di una produzione culturale che consente loro sia di comporre liturgie mirabili sia di sapere esprimere una evangelizzazione adatta a un popolo di analfabeti i catechisti di Monsignore sono cantori e poeti che non è possibile distaccare dalla storia dell'ispirazione biblica e da quel quinto evangelio che secondo l'apostolo Giovanni deve ancora essere scritto con questi suoi laici uomini e donne destinate in gran parte a morire atrociamente torturati il dialogo di Romero è continuo nei villaggi aggrappati alle pendici dei vulcani o sulle rive dell'oceano nelle periferie fangose e infette delle città nelle piantagioni di caffè in cui uomini donne e bambini si spaccano la schiena per quattordici ore al giorno e dormono all'adiaccio l'alcivesco e il suo popolo con il loro mutuo amore rendono presente il regno di Dio in una regione devastata dall'odio noi abbiamo da qualche anno una sorta di insurrezione di potenti ecclesiastici contro la novità del concilio agli storici che parlano di radicale mutamento apportato dall'assemblea mondiale dei vescovi alla vita della chiesa teologia e prassi il cardinale Ruini e alcuni suoi scrittori oppongono che semplicemente furono fatte alcune riforme ma niente fu sostanzialmente cambiato papà Ratzinger è intervenuto nel dibattito dicendo che vi è stata un'ermeneutica della discontinuità mentre valida sarebbe stata un'ermeneutica del rinnovamento a me pare che quando come nel concilio irrompono la profezia allo spirito del signore e sconvolgono antiche discipline e credenze definire questa irruzione di discontinuità o rinnovamento sia un problema di parole importantissime sì ma l'una e l'altra inadatta a descrivere la grazia della conversione non vedete dice il signore io faccio una cosa nuova la nostra paura che certi mutamenti siano o siano stati radicali ha forse qualcosa di infantile non è successo niente dicono i bambini di ciò che li hanno turbati con la stessa mentalità i pire visionisti cercano di dimostrare che la vita di Romero non fu fratturata da una conversione e questo mi pare davvero un brutto gioco di parole la vita di Monsignor fu certamente segnata dalla continuità della fede e della disciplina ecclesiastica ma profondamente cambiata con la rottura di scelte umane di sentimenti di affanni e di coraggio lo compresero bene i ricchi per loro il vecchio Romero fu un acclamato oratore un santo sacerdote di cui era lusinghiero condividere l'amicizia il nuovo Romero convertito un vescovo comunista ed eretico da rimuovere in tutti i sensi una canonizzazione che negasse o anche soltanto tacesse sulla conversione di Romero avrebbe il volto sfigurato da cicatrici di classe porterebbe l'estimate della reluttanza vile di alcuni ecclesiastici fra i più importanti dal punto di vista montano a proferire il non telecito davanti ai peccati dei potenti la santità di Romero nasce da una vocazione cioè da un richiamo dei poveri che a 60 anni lo cambia radicalmente ricordate l'abbiamo letto poche settimane fa la pagina di Giovanni sull'incontro fra Gesù e i due discepoli del Battista Gesù chiede loro che cercate incerti ed emozionati i due futuri apostoli rispondono con una loro domanda dove abiti? risponde il Cristo venite e vedrete ed essi dice il Vangelo andarono dove Gesù abitava quel giorno e si fermarono presso di lui mi tenta una parafrasi quando la barbaria dei feudatari dell'impero costringe Monsignor appena diventato arcivescovo accanto al cadavere di padre Rutilio Grande e di tre suoi parrocchiani assassinati dalla violenza degli agrari quasi stupefatta nel vedere una richiesta di paternità dai campesinos che si accalcano intorno ai corpi stranziati e gli sembra che credere da dove venite dove abitate ed essi rispondere vieni e vedi e questa pagina di stampa evangelico può concludersi in questo modo ed egli andò e rimase con loro da quella sera infatti Romero che aveva sempre aperto la sua causa ai mendicanti e trasformato gli uffici della diocese di Santiago di Maria in rifugi notturni per i coloni delle piantagioni di caffè cominciò ad entrare lui negli abituri dei poveri le capanne addossate alle rocce fredde ed umide quelle in cui una tettoia di eternit è segno di distinzione le vere e proprie tanne di fango e di frasche per bambini segnati alla fame e le case di quel giorno cioè i precari accampamenti dei profughi di una cruderissima guerra civile le povere stanze scheggiate dalle pallottole o devastate dal napalm delle truppe speciali e imparò a conoscere il pianto degli orfani che avevano visto uccidere i genitori delle donne violentate i gemiti dei torturati il rantolo dei morenti e là sul versante negativo della storia incontrò un'umanità e un vangelo da cui la sua cultura di prete reazionario l'aveva sino a quel momento tenuto lontano conobbe il dolore e l'inesausta speranza di liberazione dei suoi figli la loro paura eroica e tutte queste esperienze le fece proprie nei tre anni tormentosi dalla sua testimonianza Romero amò come figli anche alcuni suoi preti e suore che avevano scelto intrepidamente di essere poveri fra i poveri assaliti dalla violenza e perciò condannati a morte e anche da loro come da alcune persone che rischiavano la morte per difendere i diritti umani penso a Marianella Garcia Viglias che lo seguì nel martirio accettò umilmente di essere evangelizzato l'arcivescovo che non piegava il capo davanti ai governanti e che osava scrivere con forza per la salvezza dei suoi figli ai capi dell'impero e ordinare ai soldati di disobbedire agli ordini omicidi fece del suo episcopato la matrice di una nuova pastorale segnata dall'esigenza dei poveri nel suo sguardo si arrestò ai confini del Salvador al popolo del pulgarsito il pollicino d'America come stato amorevolmente soprannominato per la sua piccolezza il Salvador Romero gioì per la vittoria del poverissimo popolo nicaraguense sulla spietata dittatura di Somossa e pianse accanto al lutto senza pace me lo ricordavo l'altro giorno Lita Boitano accanto al lutto senza pace delle matri della piazza di Maggio essendo egli con elder camera l'unico vescovo sudamericano che lo accorse con cuore di padre e di fratello i poveri dunque conosciuti con amore considerati come gente importante uno ad uno mi è sempre incantato che nella liturgia dei santi innocenti la chiesa parli dei bambini massacrati di Erode dicendo che virgolette non a parole ma con la morte hanno testimoniato il Cristo così è degli umili maestri di Romero ma allora quando noi facciamo memoria di Monsignor a me sembra che egli non sei indichi ma loro anche se può essere uno stimolo a una nostra conversione il nostro santo senza aureola non è una radice è un frutto il frutto di una fede vissuta in prossimità della croce e anche ciò che Romero andò progressivamente scoprendo in prossimità di fedi laiche nella grandezza della dignità umana la via di salvezza che Romero ci propone e propone alla chiesa è di rovesciare convertire la nostra cultura anche quella teologica le nostre valutazioni della civiltà in cui viviamo devono essere misurate non in base alle conquiste scientifiche o tecnologiche ma in base alle condizioni dei poveri e alla nostra volontà e capacità di schiodarli dalle loro croci espressione che con il dovuto rispetto per i revisionisti ecclesiali è lettera del concilio la chiesa dice la costituzione dogmatica l'umangentium riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo salvatore allora prima di passare alla seconda e più breve parte del mio dire lasciatemi a questo punto dirvi quanto io sia felice di vedere che voi siete fedeli a questo messaggio anche se sono costretta ad ammettere che la vecchiaia comincia a pesarmi addosso cerco di essere un uomo che vive la speranza fra gli elementi che rallegrano e rinsaldano questo testato sentimento che ravvivo ogni mattina la rete e la rete radieresce il suo costante dibattito interno la sua apertura a nuovi orizzonti la sua solidarietà con il mondo dei poveri l'attenzione ai suoi insegnamenti sono per me motivo di grande gioia grazie concedetemi concedetemi ancora qualche minuto poiché io credo i santi non ci sono stati dati soltanto perché ne venerassimo l'esempio ma anche per osservare la realtà con i loro occhi e coglierne così aspetti che spesso fruttoresamente ignoriamo mi pare utile dire adesso qualche parola sul fatto che l'assassinio di Romero fu certamente un episodio di odio religioso e politico di cui conosciamo mandanti ed esecutori ma si scrive anche nel contesto di una violenza pianificata a livello planetario e così come tradiremmo Romero se lo separassimo dal suo popolo negheremmo 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 le dimensioni della sua tragedia se la esaminassimo soltanto come un episodio della storia di un piccolo paese Monsegnor accusato prima e dopo il suo martirio di essere uno sciocco di non capire la politica vide invece chiaramente che lo strumento che stava alla base della violenza istituzionale era la legge della sicurezza nazionale un fenomeno che a me pare di strettissima attualità la nostra attenzione richiamata quest'anno dovrebbe esserlo da molte ricorrenze e molti eventi che ci interpellano ne cito alcuni a casaccio il centenario della nascita di Dietrich Bonhoeffer il cinquantennio della morte in combattimento di padre Camillo Torres il quarantacinquesimo anniversario dell'assassinio di Lumumba il trentennale del golpe argentino con l'instaurazione di una dittatura del genocida la diversità fra le situazioni di questo passato e la situazione attuale con i mutamenti intercorsi in qualche decina d'anni è tanto radicale da sconvolgere chi la contempla soprattutto quanto è avvenuto e sta avvenendo nell'America Latina e lì a dimostrare che sennò che ci sarà un popolo che si vede negare dignità e pane la storia continuerà nell'insurrezione degli uomini e delle donne di buona volontà tuttavia questi eventi di liberazione non si è accompagnato e ne soffriamo ogni giorno un generale mutamento planetario situazioni terribili ormai antiche insanguinano ancora la terra in tutti i suoi continenti prima e fra tutto la questione palestinese martirio di un popolo e vergogna di tutti gli stati e i popoli democratici la logica la logica la logica della forza imperiale cioè la logica della forza di Caino battuta in alcune regioni del nostro pianeta tiene ancora saldamente vaste aree e cerca incessantemente di impossessarsi di altre Monsignor Romero è una vittima di questo imperialismo in Brasile in Uruguay in Cile in Guatemala in Argentina quando le dittature militari imposte o sostenute della Casa Bianca furono costretti ad andarsene i governi o più spesso la Chiesa installarono commissioni di indagine che raccogliessero le verità atroci del terrorismo di Stato furono così pubblicati dossier di centinaia e centinaia di pagine e ovunque questi rapporti furono intitolati Nunca Mas che vuol dire mai più Nunca Mas voleva dire più specificatamente mai più tante sofferenze fisiche e morali mai più tanto crudele negazione dei diritti umani mai più tanta perversione dello Stato mai più tante persone trasformate in carnefici mai più tante persone massacrate perché affamate e assettate di giustizia e di libertà per tutti mai più vescovi silenziosi davanti alla feroce dei generali o vescovi uccisi per aver elevato la voce del Vangelo come Monsignor Romero o gli argentini Monsignor Angerelli e Monsignor Ponce de Leon o il guatemalteco Monsignor Gerardi con Nenedera mai più donne stuprate nelle camere di tortura mai più bambini serviziati nel ventre delle madri mai più bambini strappati ai genitori desaparecidos gli uni e gli altri mai più mai più mai più davvero gli orrori che i dossier della repressione dell'America Latina documentano non parlano soltanto della possibilità che ciascuno di noi si porta dentro di agire il bene o il male in maniera totalizzante ne parlano soltanto della brutalità provocata dall'ignoranza o dalla miseria non parlano di episodi casuali e neppure di un'orrenda catena di eccessi la verità è che ciò di cui parlano è ben più grave parlano di una ferocia progettata programmata pianificata agita sia pure in molte forme da quelle più evidenti come nei grandi massacri salvagolini guatemaltechi più silenziosamente in altre nazioni la storia di questa pianificazione della repressione con tribunali segreti e segrete condanne alla disoccupazione alla paura alla tortura alla detenzione segreta l'uccisione segreta insomma la frantumazione della persona umana e del contesto sociale comincia alla fine degli anni 50 del secolo scorso in America Latina nella scuola superiore del Brasile e il suo primo ideologo in generale che si chiama Golberry da Couto e Silva ha fama di raffinata intellettuale porta un soprannome aristocratico lo chiamano la Sorbona dall'alto della sua cultura giuridica guarda il mondo e si convince che ormai è nata una guerra totale fra cultura cristiana occidentale affidata per sempre agli Stati Uniti e le forze del male assoluto per vincere questa guerra è necessario non combattere soltanto il nemico esterno ma anche ogni sua versione interna a ogni costo in tutti i modi possibili i suoi allievi perfezionano strategie tattiche danno vita a un golem un gigante senza coscienza un mostro che ancora oggi si aggira sulla terra e questo mostro questa perversione giuridica questa matrice di infamia per stati che osano definirsi democratici ha vari nomi ma uno li unifica dottrina della sicurezza nazionale essa non nega come il fascismo e lo stalinismo i valori della democrazia o delle libertà naturali individuali non ostenta come Hitler teschi i suoi berretti e i suoi soldati non impone come Mussolini tessere di partito o giuramenti esibisce invece una constatazione se la democrazia vuole salvarsi dai suoi nemici i terroristi deve accettare qualche temporanea limitazione il patriotismo esige qualche temporaneo sacrificio del diritto della costituzione se lo Stato è in pericolo per il bene dello Stato è necessario eliminare quel pericolo e dunque accertarne con ogni impegno le forme e l'eventualità e dunque storcere la verità che si rifiuta di collaborare e dunque usare la tortura per il bene di tutti per impedire che la sovversione di Laghi è necessario purtroppo limitare provvisoriamente la libertà di stampa violare la ristrevatezza delle comunicazioni interpersonali e impedire critica al comportamento della polizia sempre eroica per definizione lo Stato padre chiede ai suoi figli serena fiducia e riconoscenza lo Stato colonnello o le sue agenzie si incarica dei servizi sporchi necessari all'ordine pubblico è necessario farla finita con le fisime dei magistrati lo Stato dittatoriale protempore si incarica dei rapporti internazionali cioè della tutela del cordone ombelicale che lega vitalmente i governi locali a quello di Washington sempiterna capitale di un impero planetario questa dottrina si è rapidamente diffusa in tutto il continente latinoamericano non da sola c'è chi le ha dato le ali nella sua versione militarista il grande capitale offre denari ricerche scientifiche sofisticate tecnologie e il pratico monopolio dei mass media nel Salvador come nel resto del mondo per le guerre democratiche preventive sono state e vengono usate armi personali ciascuna delle quali ha un costo tale da poter sollevare dalla miseria un intero villaggio le spese per le armi collettive redimerebbero aree di dimensione subcontinentale società segrete massonerie come la P2 facilitano la globalizzazione di una rete di polizie repressive agli ordini della CIA per insegnare la dottrina della sicurezza nazionale e le sue pratiche e attuazioni il Pentagono ha istituito una vera e propria università della tortura la scuola dell'Asamericas ha avuto ed ha come allievi i peggiori arnesi del fascismo dell'America centrale e meridionale tanto per dire il maggiore Roberto d'Aubuisson mandante dell'assassinio di Romero vi si impara che ogni protesta contro il potere imperante significa soffersione e dunque terrorismo e però non si maneggiano impunemente i virus contagiarsi è facile la dottrina della sicurezza nazionale infetta oggi la più grande democrazia del mondo non solo con leggi che amputano crudelmente gli ideali di un tempo ma anche con il vero e proprio boom della tortura io non so se il generale Golbery avesse previsto Guantanamo ma certamente Guantanamo è il suo degno mausurrio il golem della sicurezza nazionale sfiora anche noi io non credo di essere un pessimista e tuttavia qualche volta mi pare di sentire che i suoi passi si avvicinano all'Europa vengano dalla Cecenia o da Bugraib o dagli alberghi di russo milanesi in cui agenti stranieri organizzano il rapimento di supposti terroristi il suono di quei passi mi inquieta la totale moralità di quel golem che è anche tranquilla ferocia mi ricorda che la contemplazione di un martirio come quello di Romero nella storia della provvidenza può avere anche il senso di un richiamo a non tenere gli occhi chiusi e le teste chine grazie grazie